Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono MareK300, oggi ragazzi questo video è super super fast, non ho neanche il tempo di fare le intro, è importante ragazzi, è importante. Allora, come potete vedere qua in questa immagine, stanno girando dei codici di un certo piccone infuocato della Moltenere Gate Raider in stile Minty. Come sapete il Minty si riscattava tramite questo foglietto che se tu ti spendevi un 20€ al GameStop, mi sembra, ti davano questo fogliettino col Minty, il codice, e tu non devi riscattare e ti vendevi il Minty. Ragazzi, se qualcuno su Instagram vi contatta, vi dice, ah guarda questa foto, ragazzi è veramente ritoccata troppo bene, non fidatevi, se vi mandano la foto con il codice, non mettete il codice, oppure magari se vi chiedono dei soldi, non fate ragazzi, sono fake. Non c'è nulla di ufficiale, Epic Games non l'ha rilasciato, nulla di ufficiale. Quindi mi raccomando, se vedete dei foglietti simili a questi qui, con questo piccone della Renegade Rider però infuocato, ragazzi, mi raccomando, non credete, ci sono estremamente fake. Quindi non date dei soldi a persone che magari vi propongono appunto questo piccone e poi non ci sarà perché vi truffano, ragazzi, mi raccomando. Occhio ragazzi a tutte queste frode, a tutte queste truffe, mi raccomando, sempre gli occhi aperti. Io vi ringrazio ovviamente per aver guardato questo video, ragazzi, veramente, guardatelo, è veramente importante.